Buongiorno, sono Antonella Davero, consulente immobiliare Remax Stella Polare. Oggi vi presenterò una piccola soluzione per chi volesse fare un investimento per mettere a rendita, per realizzare un B&B, affittarlo o addirittura abitarci. Venite, ve lo presenterò. Precisamente ci troviamo in via degli Annazio, nel borgo antico di Modugno. Vi presento un'abitazione d'epoca terra-cielo, distribuita su tre livelli, composta da un vano al piano terra, e altri due ai piani superiori, con annesso terrazzo di proprietà. L'immobile è completamente da ristrutturare. Approfittate dell'ottima richiesta, chiamatemi per una visita.